Dopo alcuni giorni di stoppa ai contagi, con l'indice di positività fermo a zero, nelle scorse ore qualcosa è cambiato con leggero incremento. Nella giornata di ieri, infatti, 5 nuovi casi positivi al coronavirus sono stati scoperti in Campania su 1.629 tamponi esaminati. Il totale complessivo di positivi in regione sale così a 4.833 su 220.662 tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia. Dato positivo è che non ci sono nuove vittime da coronavirus. Il totale dei deceduti è 426, i guariti si attestano a 3.685. È stato registrato un nuovo caso di positività a Scafati. Si tratta di un altro operatore sanitario in servizio in un'asola del Napoletano. È asintomatico ed è in quarantena domiciliare. A Scafati, in totale, sono solo tre attualmente con cittadini ancora contagiati. In totale, a Scafati, i casi accertati dall'inizio dell'epidemia sono stati 67, di cui 59 guariti e 5 vittime. Infine, parte oggi il piano scuola sicura della regione Campania. Da oggi, infatti, il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone su base volontaria ai checkpoint territoriali delle 5 province campane.